Dal bianco e nero delle tribune politiche paludate alla vivacità spesso rissosa dei talk show politici di oggi. L'evoluzione della televisione, soprattutto quella generalista, raccontata in un libro scritto dal giornalista manfredoniano Gennaro Pesante. Vera e propria fotografia, anche quella di fatto un'immagine, di cosa è stata la tv per la politica e di cosa diventerà. Una riflessione ad alta voce e per certi versi una sentenza inappellabile. I talk show politici, quelli nei quali c'è una sorta di compagnia di giro che si rincorre tra slogan e interruzioni, rappresentano un genere inflazionato. Ma diciamo che i talk show sono un genere inflazionato, viene tenuto in vita in modo abbastanza artificiale, artificioso ormai, perché il futuro della televisione sono indubbiamente le piattaforme tematiche come Netflix, Amazon. La stessa RAI ha capito che deve diversificare e la tematizzazione prende strada, prende forma sempre in modo migliore anche lì e ci auguriamo che questo possa essere il futuro anche un po' di tutta la televisione generalista che comunque come genere televisivo è superato da diverso tempo. La fine del talk show e il futuro della televisione, oltre ad essere il titolo del libro di Pesante, è stato anche lo spunto per ragionare della tv prossima ventura. Appuntamento voluto dal club unesco di Cerignola nell'ambito di una serie di appuntamenti dedicati ai libri. I primi, paradossalmente, a pagare Dazio alle nuove forme di comunicazione con i social onniboli e la tv che sembra di un'altra era geologica.